Ciao a tutti, sono Trucce Baldazzi, malato mentale. Voglio dire una cosa soprattutto ai miei fans, soprattutto a voi ovviamente. C'ho un trauma sul fatto della scuola media ancora. Sono più di vent'anni che ho questo trauma, non riesco a superarlo, affrontarlo. È una cosa seria, non è una strontata, una pagliacciata, perché io ho avuto dei problemi veramente con la scuola media. E voglio dirvi che io sono molto bloccato, sono molto chiuso, sono molto spaventato. E diciamo che io sono stato non capito dalla scuola media. Io ho avuto un educatore, come tutti sapete ovviamente, che mi ha creato solo dei problemi. Diciamo con le punizioni di educazione fisica, con la stazza che avevo, che ero molto goffo, molto grasso, gonfio. Non riuscivo a farle con le pressioni, con gli addominali. Lui voleva farmene fare a tutti i costi, ma non è successo ovviamente. C'è solo che c'è stato il fatto che io mi sono sentito umiliato davanti ai compagni. Sono stato soprattutto minacciato, obbligato con grandi rimproveri. Io quello che mi ricordo era sempre stai zitto, se no prendi una punizione. Non mi faceva dire la mia ragione, ovviamente. Diciamo che tutto questo non ho imparato nulla. Non so le tabelline, non so l'inglese, non so la matematica, diciamo i calcoli a mente, non ne so per niente. La storia non la so, geografia non la so. E io che cosa ho fatto io a scuola? Io mi ricordo che a scuola quello che ho fatto, so pochissimo di queste cose. Io quello che mi ricordo sono state le punizioni. cose che mi faceva fare lui, questo educatore di merda. Mi faceva fare le espressioni, qualche esercizio d'inglese che poi mi faceva fare i compiti a casa. Se non li facevo lui se li abbiava, se li apprendeva con me. Mi faceva fare i copiare, mi ricordo un giorno che ho fatto, mi sono intercato un compito, mi sono dimenticato un compito per casa. Lui se l'ha presa con me, perché non sono riuscito, mi sono dimenticato, è umano, essere, sbagliare una cosa, dimenticare così. Lui si è arrabbiato con me, mi ha fatto ogni sbaglio che facevo, lui mi strappava la pagina. Questo è stato proprio una cosa da non credere. Io ho ancora questi flashback, ancora, che mi modificano. Vedo delle scene proprio, delle scene terribili, perché lui voleva farmi fare delle cose in maniere forti. Io volevo ribellarmi in quelle scene lì, ma con quelle scene voglio dire che in realtà sono ovviamente scene modificate. Io lì mi sono sentito, diciamo, come posso dire, io mi sono sentito indifeso, debole. Non potevo fare niente. Lui era grande e grosso. Io ero piccolo, avevo 12-13 anni, non riuscivo a ribellarmi. Affrontare le cose con violenza o cose del genere con affronti più violenti. Io mi sono sentito debole, in questo momento, vittima, diciamo, da questa situazione qua. E diciamo che un educatore dovrebbe fare un lavoro molto più facile. Non fare in modo che lo butti allo sbaraglio, non lo capisci, lo punisci, lo minacci e lo omegli davanti alla classe. Un educatore deve capire i problemi di un allievo, sostenerlo, aiutarlo per la propria vita di questo allievo. Io invece mi sono trovato questo educatore di merda e soprattutto non potevo dire neanche una parola, non potevo dire niente. Se no, poi finiva male e soprattutto, cioè, in poche parole, mi diceva sempre in continuazione, stai zitto, stai zitto. E se controbattevo, prendevo una punizione, prendevo una sgridata. E io mi ricordo un'altra cosa che in geografia, nelle parti di geografia ho preso sufficiente. Lui cosa faceva? Non è che io coloravo io i disegni di queste carte di geografia, disegni della geografia. Le colorava lui, questo deficiente di un educatore. E questi maledetti professori della scuola media, loro mi hanno detto che io coloravo e io ho preso sufficiente. E io ho avuto queste situazioni qua, ovviamente. E diciamo che è stato terribile, ovviamente anche in educazione fisica, come, non so se l'ho detto in un altro video, ho avuto un educatore che, anche lì, quello educatore è sempre quello lì della seconda terza media, così, che in educazione fisica non sapevo fare un esercizio, non sapevo, non sono riuscito a farlo con l'esercizio. Perché questo mi ha sgridato, questo educatore, quell'educatore qua, sempre quello solito delle medie, mi ha sgridato, mi ha fortemente. Io mi sono messo a piangere davanti al muro. Nessuno mi supportava, nessuno capiva la situazione, mi aiutava, non potevano capire i compagni delle medie o in tutto questo. Io mi sono sentito trattato diverso dagli altri, umiliato, soprattutto, e soprattutto non sono stato capito per niente. Io tutto questo ho disimparato per causa sua, questo educatore di merda, e io ho avuto la mia esperienza brutta, questa qui. Non sono riuscito a fare il cuoco. Tuttavia voglio dirvi che in tutto questo mi fa capire due cose. Che questi educatori, professori della scuola, minori non sono bravi per niente a capire i propri problemi degli studenti. Loro, questi che sono professionali, possono capire. Invece quelli, proprio quelli incompetenti, sono quelli volontari. Questo è il problema, ragazzi. Chi fa volontariato è un incompetente, perché pretende, con i soldi di questo Stato, della cooperativa, col cazzo che è, loro sfruttano il possibile per entrare in questo gioco di educatori che non sono educatori. quindi ci vuole un diploma, qualcosa per un attestato, una laurea, soprattutto, che poi voi queste lauree, ovviamente, queste lauree, ma chi gliele dà queste lauree? Questo diploma, questo così. Questi sono, diciamo, queste situazioni qua che si vivono come le ho vissute anni fa, e adesso non so cosa è cambiato, per me non è cambiato nulla, penso, posso immaginarlo, ovviamente, pertanto, nelle scuole medie, lì ti fanno il culo, ti fanno come stare in galera, non ti lasciano vivere, se fai delle cose, sei vivace, sei imperativo, sei con di solo oppositivo, provocatorio, come sono stato io, non ti cagano di striscio. loro vogliono che tu fai quell'esercizio, e poi, se non lo fai, prendi la punizione. Tuttavia, voglio dire, che io non riuscito a parlare, io, dei miei problemi con loro, perché non riuscivo, a esprimermi, io usavo, delle atteggiamenti infantili, per, per, per cercare un modo, che io, di, non so come potevo fare, perché avevo questi atteggiamenti, che erano sciocchi, e io, non riuscivo a parlare, come adesso, tuttavia, è stato brutto, nonostante tutto questo, io, vivo dei momenti incredibili, proprio, incredibili, proprio, non faccio dormire, a dormire la notte, faccio fatica, a, quando penso, sono da solo, sono un po' pensieroso, vivo con degli scatti, così, e, comincio, a pensare, che voglio affrontare, l'educatore, essere in palestra, che lui mi fa, muoviti, stai zitto, mettiti giù, che fai le flessioni, e gli dà un calcio, nelle gambe, gli sputavo in faccia, poi danno dei pugni, in faccia, e, tutte scene violente, proprio, cose che io, non sono riuscito a fare, io da piccolo, perché non le vivevo, queste cose di violenza, roba così, e, non l'ho mai pensato, ovviamente, e, tuttavia, voglio dirvi, che, è difficile uscire, da questo trauma, io adesso, vedo, questa situazione qua, come fare, perché, è difficile, uscire, da questo trauma, della scuola media, di quell'educatore, maledetto, e io, voglio, superare, questa cosa, voglio vivere, voglio, cercare il modo, per, superare, il meglio possibile, perché, io mi sento bloccato, non, cioè, i miei pensieri, sono ossessibili, sono aumentati, ho sempre questi pensieri, mi blocco, questo blocco mentale, e, vorrei, cercare il modo, per, aprirmi, essere libero, fare le cose, che voglio fare, togliermi, ancora, questa pancia, di dosso, e, provare a muovermi, però, non, non ci riesco, sono, troppo bloccato, sono triste, ho questa depressione, questo blocco mentale, diciamo, che le paure, mi tengono imprigionato, mi fermano, e io, non so cosa fare, ovviamente, mi sento, K.O., diciamo, con questo video, vi ho detto tutto, di questo trauma, di più di vent'anni, spero che il video vi piaccia, e mettete mi piace, e spero che ci vediamo presto, al prossimo video, Truce Valdazzi, malato mentale, e, che, Grazie.